Accelera la discesa della curva dei ricoveri covid in Italia tra 10 e 17 maggio, il numero totale dei pazienti ricoverati sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive si è ridotto di quasi il 15%, una diminuzione doppia rispetto al periodo tra i 10 maggio e quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali Sentinella della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Nello specifico sono calati del 15% i casi nei reparti ordinari e del 14,8% quelli nelle reanimazioni. Continua anche la diminuzione dei ricoveri pediatrici, inoltre nelle terapie intensive la percentuale di pazienti no vax con forme di covid grave è del 24% e in merito ai no vax, secondo fonti del Ministero della Salute, è in arrivo una seconda tranche di multe per gli over 50 che non si sono vaccinati. Da aggiungere alle 600.000 del mese scorso e un terzo blocco potrebbe presto arrivare, in caso di contestazioni che sarebbero diverse, ci sono 10 giorni per presentare la documentazione dell'avvenuta vaccinazione.